E' fallito il tentativo del Comune di Cortona di presentare il reclamo formale rispetto al fallimento della Cantarelli. Il sindaco Francesca Basanieri ha detto cercheremo altri appigli giuridici. Sono stata costretta, leggiamo in un comunicato, a prendere atto con grande rammarico dell'impossibilità giuridica di presentare formale ricorso all'atto di fallimento della Cantarelli, decretato nelle settimane scorse. Il tentativo è andato a vuoto perché non ci sono i presupposti giuridici perché l'amministrazione cortonese salvi la Cantarelli dal fallimento. Mi sono impegnata, ha detto ancora il sindaco, fin dall'inizio di questa vicenda, stando al fianco dei lavoratori perché anche se non avevo gli strumenti diretti per incidere nella vicenda, ho ritenuto un dovere morale e politico aiutare i circa 250 lavoratori del mio territorio. L'ultimo tentativo era stato quello di provare a fare reclamo formale a questa sentenza di fallimento. Il cavillo che il comune aveva cercato di sfruttare erano i crediti sulle tasse locali non pagate dall'azienda. Il tentativo disperato non ha avuto esito. Questo non ci fermerà, dice ancora la Basanieri. Ho dato mandato al nostro studio legale di analizzare nel dettaglio tutti gli atti e le sentenze che hanno accompagnato questa triste vicenda della Cantarelli. Desidero ribadire che per Cortona e la sua amministrazione questa vicenda non è da considerarsi chiusa.